Buongiorno a tutti e ben ritrovati, oggi andiamo a vedere un esercizio di condizionamento di un trasduttore di umidità. Allora in questo esercizio utilizzeremo il trasduttore di umidità HM1500LF basato sul sensore di umidità che abbiamo visto nell'esercizio precedente, nel video precedente, l'HS1100LF che ha un'uscita di tipo capacitivo. Quindi il sensore all'uscita capacitiva qua col trasduttore, quindi c'è già all'interno di questo integrato una conversione dal valore capacitivo al valore di tensione, quindi ha un'uscita in tensione. Questo tipo potete trovarlo tranquillamente su datasheet perché sono tutti valori effettivamente presi appunto da un foglio di datasheet, quindi ha un'uscita in tensione con sensibilità pari a 26 mV alla variazione percentuale dell'umidità relativa. Nel range di umidità relativa questo variazione può lavorare da 0 al 100%. Sapendo che la Vout è pari a 2,48 V in corrispondenza dell'umidità relativa del 55%, progettare un circuito di condizionamento in modo tale che la tensione di uscita vari tra 1 V e 9 V, quando l'umidità relativa, percentuale ovviamente, varia tra il 10% e il 90%. Tracciare infine il grafico della tensione di uscita in funzione della variazione percentuale dell'umidità relativa e verificare, questo facciamo visivamente, la linearità. Quindi andremo a vedere che effettivamente otterremo una retta da i 3-4 punti, ovviamente non ne basteranno solo due perché sì, è vero che per due punti passa una retta soltanto, ma dobbiamo anche vedere se gli altri effettivamente sono su, gli altri punti sono su questa, su questa retta. Quindi almeno 3 per vedere che l'andamento effettivamente si mantiene lineare oppure l'andamento lineare diciamo racchiude quelli che sono i punti di corrispondenza Vout RH. Bene, ci vediamo tra un attimo e lo risolviamo insieme. Bene, allora questo è il circuito che ci permette di realizzare il condizionamento dell'esercizio richiesto, quindi del nostro trasduttore di umidità. Qui troviamo il trasduttore di umidità nel suo range preso in considerazione per l'esercizio. Dovremo poi andare a vedere la tensione di uscita, quindi qua in realtà abbiamo una Vout che abbiamo chiamato Vout primo del trasduttore e la Vout invece sarà poi quella, l'uscita dell'ultimo stadio, che è uno stadio differenziale. In mezzo abbiamo un Voltage Follower, quindi un inseguitore che ci serve per andare a fare la separazione in modo che qua vado a prelevare semplicemente la tensione e non mi va ad influenzare o a cambiare quello che sono la circolazione di corrente, quindi mi va appunto a separare, a disaccoppiare la parte del trasduttore dallo stadio differenziale. Quello che ci servirà andare a fare è dimensionare opportunamente le resistenze, quindi R1, R2 e la tensione di riferimento in modo tale che l'uscita di tensione finale sia appunto tra 1 e 9 quando in corrispondenza del 10% 90% dell'umidità relativa. Allora come prima cosa andiamo a calcolare intanto il valore della Vout primo in corrispondenza del 0% di umidità relativa, poi del 10%, poi ci mettiamo anche un 20% e un 90%, quindi abbiamo almeno, intanto lo 0% ci servirà per il discorso di togliere l'offset, quindi andiamo a vedere i vari calcoli da fare. Allora, quando? Allora, facciamo così, quando? Allora, una percentuale RH è uguale allo 0%, avremo una Vout primo pari a... Allora, dovremo andare ad utilizzare come formula quella della linearità, quindi andremo a prendere il valore a 55% di umidità relativa, quindi il 2,48 e poi in questo caso, siccome abbiamo il riferimento è lo 0% e lo portiamo dal 55% andremo a mettere meno la sensibilità, quindi 0,026 che sono i millivolt a percentuale di umidità relativa e poi 55% e quindi avremo, adesso magari vado a scrivere 1,05 volte, questo l'abbiamo già visto più volte in vari esercizi, vado magari a mettere qua una formula generalizzata, quindi Vout primo sarà uguale alla V relativa a una percentuale, quindi una tensione, allora facciamo così, come possiamo mettere? Vout primo è anche questa però è riferita a un valore percentuale, facciamolo così, allora Vout primo è una percentuale generica, sarà percentuale, allora, con RH uguale al 55%, ok, e poi sarà più o meno la sensibilità per la delta RH, percentuale RH, spero che si capisca, che poi è quello che, e qui c'è un più o meno a seconda se ci spostiamo, mamma che brutto, se ci spostiamo in avanti o indietro, beh, ok, spero si capisca, quindi questo ha il, quando abbiamo lo 0% e abbiamo detto questo ci servirà poi per l'offset, quindi per andare a dimensionare opportunamente il valore dell'OREF. Poi, andiamo a vedere, percentuale RH abbiamo detto il 10%, la Vout primo sarà uguale a, sempre 2,48 meno 0,026, e poi qui avrò 55 meno 10 e qua mi viene 1,31 volt, poi abbiamo un percentuale RH, poi abbiamo un percentuale RH uguale al 20%, che questi sono poi gli intervalli che ci interessano, quindi la Vout primo sarà 2,48 meno 0,026, 55 meno 20, e qua abbiamo 1,57 e qua abbiamo 1,57 e poi percentuale RH, 90%, la Vout primo sarà 2,48 meno 0,026, volendo invece di fare l'intervallo una volta che uno faceva lo 0%, si potevano fare tutte relative a questo valore, quindi anziché 2,48 mettere 1,05 e poi qua non serviva fare l'intervallo, ma bastava solo lasciare o 10 o 20 perché era riferito allo 0, è la stessa identica cosa, cioè non cambia nulla, ecco, nel senso si poteva fare poi come questo valore qua riferito allo 0%, allora qui il delta percentuale RH in realtà sarebbe stato il valore della percentuale della quale voglio trovare la tensione di uscita, quindi 10, 20, 90, meno 0, quindi rimaneva il valore, si evitava di fare sempre questo delta, però è una stessa identica cosa. ecco, qui no, qui invece dobbiamo fare 90 meno 55 e qua non è più, non è meno, ma è più. Poi, allora, quindi qua abbiamo 3,39 volt, quindi qua abbiamo i nostri valori della tensione di uscita parziale, diciamo così, solo del trasduttore. Ora, andiamo a vedere che cosa, come andare a condizionare, quindi come andare a dimensionare R1, R2 e Vref. mi faccio un po' di spazio sotto. Allora, per condizionare, devo dimensionare opportunamente Vref R1 e R2 in modo tale che quando ho, allora, in corrispondenza di Vout' primo pari, allora, quando abbiamo, abbiamo detto, quando abbiamo 10%, quindi 1,31 volt, la Vout finale sia 1 volt. e quando Vout' primo è pari al 90%, quindi 3,39 volt, ho una Vout finale che sia pari a 9 volt. Quindi, per fare questo, devo risolvere il sistema andando a prendere la funzione di trasferimento dello stadio differenziale, quindi vado a prendere questa, metto a sistema a sistema le due relazioni. Questo l'abbiamo già visto molte volte quando abbiamo risolto gli esercizi con i trasduttori di temperatura, ma è sempre la stessa cosa, nel senso mettiamo al sistema le due relazioni, avremo due equazioni tre incognite, ma andiamo a vedere che una parte si può eliminare in modo da avere subito e immediatamente la relazione tra il rapporto tra R2 fratto R1. quindi la prima sarà allora vogliamo l'uscita Vout uguale a 1 in corrispondenza di avremo R2 fratto R1 fratto R1 e abbiamo poi Vout primo mi ha detto 1,31 meno Vref che non sappiamo quindi faccio ancora questo passaggio in modo che si capisca meglio poi l'altro invece voglio la Vout pari a 9 quando ho tutto questo uguale ma questa qua è uguale a 3,39 ora vado a cosa posso fare allora 3,39 ok a questo punto svolgo semplicemente questa moltiplicazione quindi vado a in modo che si vadano a separare le due cose quindi avrò da una parte R1 quindi questa mi rimane facciamo così che la ricopio R1 R2 fratto R1 per 1,31 e poi meno R2 fratto R1 per Vref poi qui invece abbiamo 9 uguale R1 fratto R2 fratto R1 3,39 meno R2 fratto R1 Vref quindi vedete che ho questi due termini che sono uguali ora sapete che per risolvere i sistemi io posso elaborare le equazioni come voglio nel senso il modo più veloce per fare questa posso moltiplicarle sommarle tra di loro ho fatto una graffa tremenda ma non mi cambia nulla moltiplicare e dividere per lo stesso numero l'importante è che qualsiasi cosa faccio la faccio a entrambi e adesso qua prendo faccio la seconda equazione meno la prima equazione in questo modo potremmo anche fare il contrario ma mi vengono i segni negativi non ha senso si prende sempre quello dove la parte diciamo numerica in questo modo io faccio 9-1 non ho parti quindi la prima faccio la seconda equazione meno la prima quindi avrò 9-1 8 uguale qui avrò la parte R2 fratto R1 che rimane sempre uguale e avrò 339 meno 1 e 31 1 e 31 e poi questa parte avrò meno e qui meno meno che diventa più in ogni caso questa parte si annulla quindi vedete che qua io posso immediatamente andare a ricavare il termine R2 fratto R1 e l'altra posso tenere o la prima o la seconda è la stessa non cambia nulla facciamo ad esempio la classica riga che si fa quando ne tengo una in questo caso tengo la seconda ma va bene ora vado a risolvere questa in questo caso avrò che R2 fratto R1 qui ci sarà la stessa relazione così ops allora R2 fratto R1 avremo allora 3 e 39 meno 1 e 31 che fa 2,08 2,08 quindi avrò 8 fratto 2,08 che mi viene tra virgola 85 che posso approssimare ad un valore ad esempio per fare visto che è molto allettante perché è molto simile posso andare ad approssimare a 3,9 in questo modo impongo R1 uguale a 1k e R2 uguale a 3,9 così ho anche i valori standardizzati dei resistori ora qua ma in realtà aspettate che questo non fa parte del sistema quindi questo è a posto ora andiamo avanti col nostro sistema quindi qua abbiamo trovato la relazione R1 R2 andiamo a sostituire da una parte o dall'altra quindi nella prima o nella seconda ad esempio abbiamo detto che teniamo la seconda sarà 9 uguale 3,85 per 3,39 questi teniamo il valore questo valore qui perché è più preciso meno 3,85 per Vref e andiamo a calcolare quindi la Vref che ci viene 1,05 valore che avevamo trovato come riferimento vedete qua dello 0% di umidità relativa e che è proprio il nostro offset quindi questo sarà il valore da dare alla tensione di riferimento quindi abbiamo tutto quello che ci serve qui avremo i valori di R1 di R2 e la tensione di riferimento in modo da avere appunto quell'intervallo quindi se noi abbiamo andiamo se vogliamo possiamo andarla a verificare insieme qua abbiamo detto che abbiamo qui avremo 3 a questo punto 3,9 quindi se io vado a fare 3,9 anzi vado a fare quando ho 3,39 meno 1,015 per 3,9 ho appunto 9,126 qua ovviamente avendo approssimato le resistenze viene un pochino quindi avremo il 9 mentre quando ho 1,31 faccio 1,31 meno 1,05 per 3,9 ho 1,014 quindi sono riuscita effettivamente ad avere il mio intervallo voluto salvo qualche piccola approssimazione dell'uscita quindi la mia uscita condizionata quindi qua avrò i miei valori così e così ci rimane da fare il grafico quindi il nostro grafico adesso incollo qualcosa di un po' preciso di quadrettato in modo da farlo perché se no ovviamente non viene granché bene e vediamo insieme i punti da andare a verificare dove stanno su che retta stanno allora ecco qua ho già piazzato i punti importanti sul nostro grafico quindi la Vout in realtà era la Vout primo quindi l'uscita quella che ci interessava la linearità era quella l'uscita del trasduttore poi ho fatto anche l'altro ma l'altro è molto banale 10% 1 90% 9 è ovvio che sia una relazione poi alla fine lineare però ho detto li faccio tutte e due visto che mi ero dimenticata di mettere poi l'appice qua sopra e quindi adesso ciò l'ho aggiunto allora qui andiamo a avere come punti allora in corrispondenza dello 0% dell'umidità relativa abbiamo visto che è 1,05 in corrispondenza poi del 10% abbiamo 1,31 in corrispondenza del 20% abbiamo 1,57 quindi questi punti rossi e in corrispondenza del 55% 2,48 e del 90% 3,39 quindi se noi andiamo a tracciare il nostro la nostra curva che poi in realtà in realtà è compresa tra qua e qua perché tra il 10 in realtà è tra il 10 e il 90 però ovviamente anche questo e se avessimo proseguito al 100% sarebbe stata una reazione una relazione di tipo lineare quindi visivamente vedete che è lineare per quanto riguarda la tensione di uscita banalmente sarà quella proprio finale sarà una relazione fatta così quindi qui abbiamo 10% 1 90% 9 e quindi ovviamente abbiamo questo tipo di andamento bene spero sia tutto chiaro fatemelo sapere nei commenti spero che vi possa essere di aiuto per i vostri esercizi e il vostro approssimarsi di anno scolastico e ci vediamo alla prossima lezione e al prossimo video ciao ciao